La passeggiata di un distratto. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure Giovanni, ma sta attento quando attraversi la strada. Va bene mamma. Ciao mamma. Sei sempre tanto distratto. Sì mamma. Ciao mamma. Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tatto si ferma e si tocca. Ci sono tutto? Sì. E ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero. Ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole e per forza cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Ma che distratto sei? Vedi? Hai già perso una mano. Uh, è proprio vero. Ma che distratto sono. Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Sarà proprio vuoto. Vediamo. E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto. Fin dal primo giorno. Giovanni si dimentica di cercare la mano. Poi si dimentica anche del barattolo perché ha visto un cane zoppo ed ecco per raggiungere il cane zoppo. Prima che volti l'angolo perde un braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. Giovanni, Giovanni, il tuo braccio. Ma che? Non sente. Pazienza. Dice la buona donna. Io lo porterò alla sua mamma. E va a casa della mamma di Giovanni. Signora, ho qui il braccio del suo figliolo. Oh, quel distratto. Io non so più cosa fare e cosa dire. Eh, si sa. I bambini sono tutti così. Dopo un po' arriva un'altra brava donna. Signora, ho trovato un piede. Non sarà mica del suo Giovanni. Ma sì, che è suo. Lo riconosco dalla scarpa col buco. Oh, che figlio distratto mi è toccato. Non so più cosa fare e cosa dire. Eh, si sa. I bambini sono tutti così. Dopo un altro po' arriva una vecchietta. Poi il garzone del fornaio. Poi un trondiere. E perfino una maestra in pensione. E tutti portano qualche pezzetto di Giovanni. Una gamba. Un orecchio. Il naso. Ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio? Eh, signora. I bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni. Saltellando su una gamba sola. Senza più orecchie né braccia. Ma allegro come sempre. Allegro come un passero. E la mamma scuote la testa. Lo rimette a posto. E gli dà un bacio. Manca niente, mamma. Sono stato bravo, mamma. Sì, Giovanni. Sei stato proprio bravo. Grazie. Grazie. Grazie.